Robin van Persie è nato a Rotterdam in Olanda il 6 agosto 1983. Iniziò la carriera nelle giovanì della squadra olandese dell'SBV Excelsior nel 2001. Dopo varie annate nella stessa squadra fu chiamato dal Feyernud nel quale firmò un contratto e debuttò in prima squadra a 17 anni e 6 mesi. Giocò inizialmente fra le riserve concludendo la stagione in prima squadra. Realizzò in totale 28 presenze con 8 gol all'attivo. Inoltre la squadra arrivò in finale nella Coppa d'Olanda. Il 17 maggio 2004 si trasferì all'Arsenal per circa 3 milioni di sterline e firmò un contratto di 4 anni con la squadra londinese. Debutò nella partita di FA Community Shield vinto dall'Arsenal per 3 a 1 con il Manchester United l'8 agosto 2004. Iniziò con molta panchina ma poi fu messo a titolare con ottimi risultati. Le sue prestazioni gli fecero ottenere il premio di giocatore del mese di novembre a seguito dei suoi 8 gol in 8 partite. Quella squadra arriva in finale di Champions League persa a 2 a 1 contro il Barcellona. Lui però non era sceso in campo per via di un infortuni. Da 2007 le sue ottime prestazioni furono intervallate da infortuni e anche da problemi con gli avversari come Manuela De Bayor che lo colpì sullo zigomo con i tacchetti venendo poi squalificato e da problemi anche con Giorgio Chiellini. Lasciò il campo in barella. Manpersi non tornerà in campo prima di aprile 2010. Termina la stagione 2011-2012 con 30 gol in 38 presenze, suo record diventando così il capo cannoniere della stagione. Annuncerà però poi di non voler rinnovare il suo contratto. Sono 132 gol in 278 presenze in tutte le competizioni. Il 17 agosto 2012 passa ufficialmente al Manchester United firmando un contratto di 4 anni per una cifra vicina ai 23 milioni di sterline che sono più o meno 28 milioni di euro. Il 22 aprile 2013 a 4 cento della fine del campionato vince aritmeticamente la sua prima Premier League grazie alla vittoria interna per 3 a 0 contro l'Aston Villa dove autore di una tripletta. 19 marzo 2014 realizza una tripletta contro l'Olympiakos che permette al Manchester United di accedere ai quarti final della Champions League 2013-2014. Nel periodo ultimo ci furono delle difficoltà concluse però la sua esperienza a Manchester con 58 gol in 105 partite totali. L'11 luglio 2015 viene acquistato ai turchi del Fenerbahce per 5,5 milioni di euro. Il 6 novembre 2016 dopo uno scontro di gioco con Abdul Sissoko resta vittima di un grave infortunio all'occhio sinistro e fu talmente grave che si pensò rimanesse cieco ma per fortuna questo non accade. 19 gennaio 2018 rescinda il contratto dopo 36 gol in 87 partite. Nello stesso anno firmò con Infejanud e a pochi secondi dal nuovo esordio segna. Vince la sua prima Coppa d'Olanda il 22 aprile seguente realizzando un gol in finale. Il 4 agosto vince la Supercoppa d'Olanda ai rigori contro il PSV. Il 30 settembre Van Persie disputa la sua centesima gara in assoluto con la maglia del Feyerland. Lascerà il club olandese il 12 maggio 2019 annunciando il suo addio al calcio giocato a 36 anni. Nel suo ritorno fece 45 gol in 122 presenze totali. Vediamo ora a Van Persie e la nazionale. Il 4 giugno 2005 esordì in nazionale contro la Romania dove vinse per 2 a 0. Erano le qualificazioni mondiali 2006. Il 6 settembre 2006 mise signora su prima doppietta nazionale nella partita di qualificazione agli europei del 2008 vinta per 3 a 0 contro la Bielorussia. Realizzò un solo gol ai mondiali del 2010 esattamente come agli europei del 2012. Nella qualificazione agli europei del 2012 segnerà 4 gol nell'11 a 0 contro il San Marino. L'Olanda non vincerà una sola partita dei gironi in poi. L'11 ottobre 2013 realizza una tripletta nell'8-1 contro l'Ungheria, prestazione che gli consente di raggiungere 4 a 41 gol e superare Klaiviert, diventato miglior marcatore di sempre degli Orange. La mondiale del 2014 è protagonista segnando 4 reti, tra cui la retta è il momentaneo pareggio con la Spagna, che ottiene la nomination per il FIFA Puskas Award 2014 come gol più bello dell'anno. L'13 ottobre 2015 non verrà richiamato in nazionale per quasi due anni. La sua ultima partita sarà appunto il 31 agosto 2017, Francia-Olanda terminata per 4 a 0 per la qualificazione mondiale. 102 presenze e record di marcatura in nazionale, 50. Si è dimostrato uno dei migliori nel suo ruolo tra il 2005 e il 2015, come trequartista e soprattutto come punta. Giocatore completo, dotato di buona forza fisica, era molto bravo nei tiri dalla distanza e nelle punizioni.